Benvenuti a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Giochi Next Gen e oggi siamo qui per la prima puntata di un nuovo gioco che vi ho voluto portare ossia WWE 2K16 un gioco bellissimo, ce l'ho già da un po' di tempo ma ragazzi sinceramente non ci ho mai giocato e quindi voglio provarlo insieme a voi allora come prima partita ho scelto una modalità nella WWE Universe ossia uno scontro che ci sarà lunedì sera in Raw e sarebbe Undertaker contro Sheep Moves ecco qui ragazzi c'è subito l'entrata del becchino di Undertaker che penso un po' tutti conosciamo ragazzi vi preverto subito che io non so giocare non ho neanche provato i tasti, nulla lo sto provando qui in diretta insieme a voi quindi non so fare nulla, non so fare veramente nulla bellissima la grafica ragazzi ovviamente prossimamente vi porterò la carriera con il mio personaggio e poi magari qualche match anche online una volta che ho preso un po' di pratica perché ora non so neanche come si fanno le mosse quindi per ora gioco contro il computer in questo primo episodio se mi potete anche dire se vi piace quindi vi invito già a lasciare un like se il gioco vi piace secondo me è bellissimo io poi amo il wrestling saltiamo direttamente la sua entrata chi se ne fotte avviamo il match subito ragazzi si parte non mi sbaglia la prima mossa è partito il match no troppo tardi quindi ragazzi dovete premere ecco qua subito the undertaker eccolo qua brutto bastardo alzati alzati che ti pesto eccolo qua ragazzi subito contro le porte the undertaker eccolo qua ecco qua ragazzi mamma mia ragazzi guardate come lo picchia uh devo usci no 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 bastardo ce l'ha fatta ecco oh bastardo troppo presto uh mi ho buttato fuori dal ring alzati alzati lo scemo qua mi sta aspettando no troppo tardi aia questa fa male mi sta pestando no 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 dobbiamo rientrare ecco qua contro mossa ecco qua prendi un cazzottone eccolo qua di undertaker andiamo se riesco a prendere la special no troppo tardi mi ha fatto una mega presa maledetto uh questa fa male ragazzi questa fa male via subito fuori via dove cazzo guardate questa è questa è questa è questa contro il pubblico contro il pubblico uh ok mi hai ributtato sul ring grazie ecco qua contro mossa ecco qua the undertaker oh dove vai no 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 uh bella questa mossa ragazzi ci sta facendo male c'è anche la super ecco qua si libera e subito diversa la mossa subito a grande taker beccati questo calcione mossa finale caricata ragazzi attenzione attenzione mossa finale di taker attenzione eh c'è la tombstone la tombstone ragazzi tombstone tombstone la tombstone ragazzi ecco qua schienamento subito vediamo due uh al due ragazzi di pochissime va bene vuol dire che dovrò continuare no no ragazzi non ho capito come funziona l'ho trovato prima troppo presto troppo tardi troppo lento è difficile ragazzi su che torniamo dai che torniamo ecco qua ecco qua ecco qua guardatene giù c'è di merda no nessuno schienamento ecco qua taker subito andiamo di sotto missione grande taker no volevo fargli la special ragazzi volevo fargli la special ma non ci sono riuscito no 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 ragazzi ho perso incredibile per schienamento sono riuscito a spingere in tempo il tasto X ho perso praticamente contro Shemus ma ora facciamo la rivincita ok ragazzi ora mi prendo la rivincita contro Shemus come vi ho detto prima questa partita la vinco non posso perdere di nuovo ecco qua subito vediamo subito ragazzi vediamo subito taker eh prima presa per l'avversario ragazzi mi sta facendo male eccolo qua però ecco qua under taker ancora lui no vediamo se riesco si ecco qua ragazzi serie di contromosse uno due tre ancora vuoto serie di contromosse infinite ragazzi tra me e lui lo Shemus sta provando a darmi fastidio a te che allora ti faccio una tomba sto maledetto bastardo ma tu guarda questo no ecco qua subito no contromossa ragazzi è un bastardo oh grande taker ecco qui ecco qua ancora ecco qua ecco qua ecco qua ancora taker eccolo qua ragazzi grande taker ecco no troppo troppo presto no 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 ecco qua eccolo qua eccolo qua ecco qua pedatone pedatone in faccia pedatone in faccia ragazzi vieni qua vieni che ora ti faccio il culo vieni qua vieni troppo presto no ragazzi ora me la fa lui ora me la fa lui no 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 eh ragazzi mi sa che mi ha fatto la final eh subito si libera subito si libera taker ecco qui mossa finale ragazzi eccolo qui attenzione tombstone tombstone ragazzi tombstone ecco con questa si dovrebbe concludere subito subito schienamento subito con questo si dovrebbe concludere uno due tre e vince vince di undertaker il becchino ce la fa ragazzi dopo un match combattutissimo contro shemus abbiamo vinto eccolo qui ragazzi in tutto il suo splendore di undertaker il becchino da death valley vince ragazzi inutile dirvi che lui è il mio personaggio preferito io seguo il wrestling da fine anni 80 diciamo dall'88 89 che seguo il wrestling all'epoca spopolavano Hulk Hogan Ultimate Warrior Andre the Giant nel 90 arrivo lui quindi io sono affezionatissimo a the undertaker il mio personaggio preferito è una leggenda quindi spesso in questi match mi vedete prendere lui ma proverò anche altri ovviamente ragazzi nel prossimo episodio mi creo la mia superstar personalizzata così iniziamo una vera e propria carriera fatemi sapere se vi piace la serie di V2K16 se ve la continuo a portare ovviamente sotto come sempre trovate i miei contatti di PSN Instagram Facebook eccetera eccetera spero che il video vi sia piaciuto ragazzi commentate condividete lasciate un like come ho detto anche prima ci vediamo al prossimo video vi do un giorno nero 83 è tutto bella grazie a tutti Grazie.